Colleghi, mister Inzaghi è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Lorenzo Vitto della Gazzetta dello Sport. Buonasera mister. Possiamo dare una spiegazione a questo gironne di ritorno in nove gare e sette sconfitte? Quando all'andata invece, tutto all'opposto, tutte vittorie, è sopravvalutato l'organico iniziale o è questa la vera regina? Ma non penso, vedendo le partite, non penso che questa sia la vera regina. Probabilmente nell'andata ci andava tutto bene e abbiamo fatto più di quello che potevamo fare. Adesso stiamo facendo meno, anche se oggi alla squadra posso rimproverare poco. La squadra se l'ha giocata alla pare, ha giocato bene contro una squadra fortissima che ha giocatori incredibili e che ambisce ed è la favorita per la Serie A insieme a Genova e Cagli. Penso che la squadra oggi a Cosenza, ero arrabbiato, oggi sono soddisfatto, dispiaciutissimo per il risultato, immeritato, sicuramente immerutato per come la squadra ha fatto la partita. Però ce la siamo giocati ad armi pari col Parma, che è anni che costruisce, che fa squadroni, per cui noi oggi dobbiamo uscire dal campo soddisfatti, dispiaciuti per il risultato. Però sono contento per le parole del Presidente che ha detto ai ragazzi, le condivido, sono contento che la gente alla fine abbia capito che la squadra ha dato tutto. È un momento così, insomma, il secondo tempo quando pensavo di vincere l'avevamo avuto l'occasione. Il Presidente ha parlato con noi? Sì, sì, ha fatto i complimenti ai ragazzi, li ha incoraggiati, l'ha fatto allo staff, ma questo è quello che noi dobbiamo costruire. Abbiamo una visione ampia, ci dispiace, dobbiamo tornare al più presto a fare punti, ma sono convinto. Purtroppo in questo momento quando prendiamo un cross e anche se abbiamo quattro giocatori contro uno, finisce sulla testa degli altri. Dobbiamo essere più bravi ancora, però la squadra, insomma, anche dopo il gol ha reagito, ha cercato di pareggiarla. Oggi veramente posso rimproverare poco, è chiaro che vogliamo tornare al più presto alla vittoria e speriamo di farlo alla prossima. Consolato Cicciu, Stretto Web Radio Sportiva. Mister, c'è un denominatore con la sconfitta soprattutto interna contro il Pisa, ma anche altre, cioè il fatto che spesso dalla panchina i tecnici avversari riescono a pescare e a svoltare il match. A Pisa fu, se non sbaglio, Sibilli contro il Pisa, oggi è, secondo me, Camarà. Entra lui, svolta il match, crea superiorità a destra, dove la regina prende gol. E forse, a differenza di Pisa e Parma, al contrario, magari chi entra dalla panchina della regina per un motivo o per l'altro non riesce a incidere come lo fa con gli avversari e come lo faceva magari all'andata. È chiaro che lì eravamo due contro due, abbiamo lasciato Pierozzi da solo e lì è l'errore più grande. Al di là che poi la marcatura dentro l'area deve essere fatta meglio. eravamo innettamente in superiorità. Però adesso guardare quelli che entrano, quelli... Rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo, cerchiamo di aver fiducia, perché, come dicevo prima, contro una grande squadra ce la siamo giocata. Per fortuna, in classifica, siamo lì, ce la possiamo giocare con tutti. È chiaro che ci dispiace per il risultato, vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi. Però in questo momento dobbiamo compattarci ancora di più, cercare di vincere alla prossima. Ecco, questo è l'obiettivo di oggi. Tonino Massara, Febbea. Sì, mister, naturalmente oggi l'applauso finale dei tifosi stava a dimostrare che la squadra è piaciuta dal punto di vista caratteriale, ha lottato fino alla fine. Un esempio per tutti è stato sicuramente Menezze, che ha rincorso fino al 95esimo l'avversario nella propria area, oltre ad aver giocato un'ottima partita. Una domanda per il futuro. Galabinov, che ha sporcato un sacco di palloni, quanto può tornare utile a questa squadra anche dal punto di vista dell'esperienza? Come abbiamo detto ieri, Galabinov ha recuperato tre mesi prima del previsto, un infortunio molto grave. Però in questo momento ci può dare una mano, come oggi appena ho potuto, insomma l'ho inserito, ha sporcato qualche palla importante. Però adesso ogni palla sporcata anche dentro l'area, o il rimpallo, anche il tiro di Fabian, e lì dobbiamo fare gol, è un'occasione clamorosa, come Rivas primo tempo, quando Buffon, però c'è Buffon, ha fatto un miracolo, un'uscita incredibile, se non Rivas sarebbe stato davanti alla porta. Ecco, quei particolari in questo momento non ci vanno bene, però sono stato molto critico con i giocatori dopo Cosenza. Oggi posso dire poco, la squadra l'ha lottato, ha fatto bene. Il nostro percorso deve continuare, dobbiamo ripartire da avercela giocato contro una squadra forte, che comunque rimane dietro di noi, però dobbiamo tornare a fare punti e dobbiamo farlo già da sabato prossimo. Giorgio Rovere, Piana TV. Mister, è la mia impressione che qualche giocatore è un po' fuori forma fisica. Voglio fare un po' una domanda specifica. Durante la sosta c'è stata una preparazione in vista di possibili play-off, dato che i play-off sono stati dichiarati dalla società l'obiettivo di questa stagione, e quindi essere pronti per fine marzo-aprile in piena forma e tornare ad essere la regina dell'andata? Ma sinceramente fisicamente non ho visto una squadra in difficoltà. Poi è chiaro che non tutte le prestazioni di ogni giocatore cambiano, però la squadra non è in difficoltà fisica. È chiaro che siamo partiti tre settimane dopo, ci manca il ritiro, ma non vogliamo accampare scusa. La squadra fisicamente ha tenuto, anzi dopo il gol ha reagito, ha fatto bene. Per cui oggi ne ho messi sei o sette freschi che non avevano giocato tre partite nella settimana, proprio perché volevo cercare di pressare alto. La squadra l'ha fatto bene, perché sennò con questo Parma, insomma, con Mann, Basquez, sono giocatori di Serie A, soffri di più. Noi abbiamo sofferto poco. Dovevamo forse essere più letali con l'occasione di Rivas e con l'occasione di Fabian, perché sono occasioni importanti. Se va in vantaggio probabilmente la vinci. Siamo andati sotto su un cross del secondo tempo, dove avevamo la partita in mano. Questo dispiace, però dobbiamo ripartire dall'applauso della gente. La gente ha capito che questa squadra sta dando tutto e noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Oggi ci teniamo l'aver giocato alla pare con una squadra candidata là, però dobbiamo ritornare a fare punti, questo è fondamentale, anche per la serenità dei ragazzi. Filippo Idone. Il Perugia settimana prossima sarà il prossimo avversario della Regina e successivamente poi ci sarà il Cagliari. Possiamo identificare queste due partite come lo Sparti Acqua della Regina e poi Canotto e Cicirelli hanno giocato molto bene nel secondo tempo. Li ripeteremo nuovamente in campo da titolare contro il Perugia? Adesso in settimana ci penseremo chi giocherà a titolare. Ma noi dobbiamo guardare partita dopo partita. Ci siamo dati un obiettivo, secondo me importante, che ci può far sognare. Penso che se siamo lì in questo momento saremo i play-off. Ce lo siamo meritati. Il girono è di ritorno, non lo stiamo facendo come volevamo. Non penso a livello di prestazione a parte Cosenza, dove siamo mancati. Il resto è stato anche a volte frutto del caso, frutto di episodi di cui abbiamo già parlato. Però adesso dobbiamo magari sporcarci un po' di più e ritornare a fare punti, perché adesso la classifica ha bisogno di quello. Consolato Ciccio. Prima diceva che fisicamente non vedo drammi, però quasi tutte le sconfitte, o forse tutte, sono arrivate nel secondo tempo. È un caso oppure è dovuto al fatto che magari la squadra... Oggi penso proprio di sì. Il primo tempo penso sia stato equilibrato, sinceramente. Potevamo andare in vantaggio noi. C'è stato un paio di palle anche per i cross del Parma. Nel secondo tempo non abbiamo più sofferto niente, sinceramente. Abbiamo preso un due contro uno sull'esterno. Lì non dovevamo prenderlo, perché lì siamo col terzino, con l'attaccante esterno. Dovamo pressare quella palla, sinceramente. Anche perché avevo messo gli esterni freschi per andare a contrastare queste palle. No, sinceramente no, perché secondo tempo non abbiamo sofferto. Per cui penso che sia casuale oggi. Colleghi, va bene così? Un attimo, un attimo. Consolato Ciccio e poi l'ultima di Lorenzo Vitti. Vincere aiuta a vincere. Perdere, non vogliamo dire aiuta a perdere, però ha paura che si possa entrare in un vortice in cui forse la squadra è già entrata psicologicamente? No, sinceramente no. Non vedo una squadra, se voi l'avete vista oggi, non mi sembra una squadra psicologicamente a terra. Se no non giochi alla pari con una squadra così forte. La squadra è dispiaciuta. È chiaro che qualche risultato positivo ti darebbe ancora più slancio. Però ho visto una squadra oggi che ha giocato bene, ha tenuto testa. Certe azioni del primo tempo sono state molto belle. Giochiamo bene a calcio. Questo l'abbiamo raggiunto. Adesso dobbiamo tornare a fare punti, ma sono sicuro, io penso sempre che poi il campo alla lunga ci premierà. Per cui dobbiamo ritornare a fare punti. Questa è la cosa più importante adesso. Come si spiega che non si riesce più a creare la superiorità numerica? Non c'è più quella brillantezza di Ganotto, la brillantezza di Rivas che stentano a superare l'uomo. A cosa è dovuto? Probabilmente è un momento, però io penso che Rivas oggi l'abbia fatto bene, perché Rivas ha messo 4-5 palle importantissime in area. Ha avuto un'occasione clamorosa dopo la bellissima palla di Menezes. Solo un fenomeno come Buffon poteva essere in uscita passa e fargli quell'intervento. Per cui gli esterni, sinceramente, Menezes ha rincorso fino al novantesimo qualsiasi avversario, anche in difesa. Per cui... Sembra un ostacolo insommontabile quello di superare l'avversario in the living. Si riesce con i lanci lunghi per via traversa, tranne Menezes che è l'unico che in questo momento riesce... Probabilmente dovranno ritrovare un po' di brillantezza, però a me oggi Rivas è piaciuto moltissimo, è piaciuto Ganotto quando è entrato, anche Cicerelli. Menezes ha fatto una buonissima partita. Andiamo avanti. Grazie. Ciao.